Buonasera, bentrovati all'appuntamento con Icaro Tg, vediamo insieme le notizie principali di oggi. A Eradria col fallimento decade anche la concessione, Gnassi e Vitali a Roma chiedono all'Enac misure per mantenere comunque attivo l'aeroporto. Critica la vecchia gestione, preoccupazione per il futuro nei commenti del giorno dopo, l'aeroporto paga il pressapochismo degli anni scorsi, attacca il presidente di Confindustria Maggioli. Freddo, neve e vento causano disagi in provincia, in Valmarecchia automobilisti in difficoltà per la neve, a Sant'Arcangelo si stacca dal tetto un'antenna satellitare. Campi di calcio ancora polemiche a Rimini, i delfini rispondono alle accuse, da parte nostra dicono nessuna speculazione. Gnassi e Vitali a Roma hanno comunque chiesto misure per evitare di interrompere l'attività dell'aeroporto e intanto, mentre Rimini è alla ricerca di contromisure, Forlì prova a ripartire. Ieri sera, ha presa la sentenza, sindaco e presidente della provincia hanno subito contattato il presidente dell'Enac, Vito Riggio, per fare il punto della situazione e questa mattina c'è stato subito un incontro alla sede dell'ente dell'aviazione civile a Roma. Una lunga discussione che è servita innanzitutto a mettere in chiaro che in base alla legge la concessione di Enac decade con il fallimento. E secondo il codice della navigazione aerea, la stessa concessione può essere riproposta solo dopo l'esito positivo di una nuova gara europea, sui cui tempi è difficile pronunciarsi. La concessione attuale scade a fine mese, ma Aeradria può comunque impugnare la sentenza prima della dichiarazione definitiva di fallimento. Ora bisogna limitare i danni approfittando del fatto che l'aeroporto può continuare ad operare in attesa dell'espletamento della gara europea e lo stesso tribunale di Rimini aveva concesso nella sentenza il proseguimento dell'attività fino al prossimo giugno. L'Enac, oltre ad avviare i primi step in vista del bando di gara, si è impegnato ad attivare subito l'iter per garantire le necessarie certificazioni al Fellini ed ha già preso contatti con il curatore fallimentare per assicurare l'operatività dello scalo in sicurezza. Intanto con un bando europeo si sta per cimentare invece l'aeroporto di Forlì, la cui società di gestione è fallita la scorsa primavera. Il bando, con base di partenza di 1,3 milioni, dovrebbe essere pubblicato entro Natale e resterà aperto 60 giorni. Se tutto procederà, entro febbraio potrebbe esserci un nuovo gestore per il Ridolfi. E in serata è arrivata anche una nota da parte del curatore fallimentare dello scalo ariminese Renato Santini che ha rassicurato sul fatto che le attività dell'aeroporto proseguiranno negli stessi termini di quanto avveniva in precedenza e proseguono anche tutti i rapporti relativi a personale, fornitori e partner commerciali. Gli sforzi in questo momento, ha spiegato poi Santini nella nota, saranno concentrati nella ricerca di un acquirente degli attivi aziendali che fanno parte del compendio fallimentare e il massimo sforzo sarà quello di conseguire i migliori risultati nel tempo più breve possibile auspicabilmente entro l'inizio della stagione estiva e compatibilmente conclude Santini con le altre scadenze della procedura fallimentare, il tutto per garantire le attività di interesse pubblico legate allo scalo, la massimizzazione delle aspettative dei creditori e la migliore salvaguardia dell'occupazione. Ma c'è tanta preoccupazione e anche rabbia nel giorno dopo la dichiarazione di fallimento di Aeradria, continuano, hanno continuato in giornata ad arrivare tanti commenti da parte del mondo politico e delle categorie economiche, il presidente di Confindustria Maggioli ad esempio lamenta il pressapochismo col quale negli anni precedenti è stato gestito il Fellini. Il fallimento non era la soluzione, l'onorevole Pizzolante si dice perplesso sulla decisione del Tribunale di Rimini, troppo penalizzante per i creditori di Aeradria. Non riesco a capire come si possa far fallire in azienda tutela dei creditori, mettendo in crisi in difficoltà gli stessi creditori che nel frattempo sono diventati soci. Io questa cosa francamente non l'ho capita e credo che non l'abbia capito nessuno riminese. Ci sono le responsabilità politiche evidenti da parte dei soci, comune, provincia che hanno aspettato, come io dico, Godot del terreno regionale dei trasporti e non hanno cercato immediatamente un partner industriale, un socio per privatizzare l'aeroporto, ma insomma questa qui è una polemica che c'è stata, adesso conta poco. Adesso bisogna cercare di capire come si può dare continuità all'aeroporto per non perdere i flussi dei russi che sarebbero una pietra tombale per Rimini. Nessun commento tecnico sulla sentenza invece dal presidente di Confindustria Rimini, Maggioli, che si sofferma invece sulle responsabilità della precedente gestione. Paghiamo una gestione approssimativa che c'è stata in questi anni di Aeradia e quindi i nodi alla fine vengono al pettine. Purtroppo eravamo arrivati in una situazione dove si cominciava a avere la luce perché abbiamo constatato una grande competenza da parte del portapani, finalmente era uscita la parte pubblica dalla gestione e questo è stato il vero problema di tutto questo. Sono venute fuori le contraddizioni di Rimini, credo, sulla vicenda. Da una parte l'approssimazione, il voler fare senza sufficienti competenze e dall'altra nel momento dove davvero si è visto che si rischiava di grosso, la compattezza delle categorie, la compattezza di tutti e la volontà di guardare avanti. Purtroppo siamo arrivati tardi. Se tutto questo fosse stato un anno o due anni prima e si fosse meno cercato di arrabbattarsi noi non saremmo in questa situazione. Un fallimento che mette in ginocchio l'intera economia attacca la presidente degli albergatori Rinaldis. Rimini rischia ora di perdere il mercato russo. Io l'ho definito un lutto della città, quindi non è un problema alberghi o non alberghi. Io credo che questo voglia dire mettere in ginocchio veramente una parte dell'economia. Io credo che tutto l'indotto ne risentirà tantissimo. Ci dovrebbe essere anche un patto forte anche con Bologna per mantenere. Non portiamoci via all'interno della stessa regione un pacchetto così importante o aiutiamoci a non farcela scippare da altre regioni, cosa che stanno già facendo. Considerate in questo momento i russi sono quel mercato più appetibile per tutta l'Italia. Noi l'avevamo in mano. Vedo che la zona delle marche comunque ha messo cifre importantissime sul comarketing. Vediamo cosa riusciamo a fare noi. Io credo che in questo momento ci dovremmo dare una mano tutti. Preoccupazione anche da parte dei sindacati che solo qualche giorno fa avevano lanciato un appello per il salvataggio del Fellini. A rischio il futuro dei 78 dipendenti dello scalo, ma non solo. Siamo molto preoccupati. Lo eravamo anche prima. Continuiamo ad esserlo. Noi faremo immediatamente richiesta di incontro al commissario nominato. Vogliamo capire quali sono naturalmente le prospettive per lo scalo riminese perché le riteniamo fondamentali e importanti per la nostra economia. Naturalmente la preoccupazione dei lavoratori è altissima. Non solo dei 78 che sono quelli direttamente interessati dal ragionamento di Eradria, ma anche di quelli che ruotano intorno all'aeroporto, che sono altre centinaia sostanzialmente. Inoltre c'è tutto l'aspetto dell'indotto. L'avevamo detto, commentano invece amaramente dal Movimento 5 Stelle, ricordando i continui richiami già dal 2011 sui conti di Eradria. Se avessimo avuto abbastanza peso elettorale per far valere le nostre osservazioni, scrivono in una nota, le cose agendo subito sarebbero potute andare diversamente. Il Movimento torna poi a chiedere le dimissioni del sindaco Gognassi e del Presidente Vitali. E chiudiamo almeno per oggi la pagina relativa all'aeroporto. Anche il territorio della provincia di Rimini è infatti coinvolto da un'altra problematica, la coda della perturbazione che sta colpendo il centro Italia. A Sant'Arcangelo una parabola si è staccata dal tetto a causa del forte vento. In Alta Valmarecchia automobilisti in difficoltà e un incidente con feriti a Pennabilli. Vediamo. In Alta Valmarecchia, in particolare a Pennabilli e Casteldelci, nevica da ieri sera. Nelle zone più elevate ha superato lo spessore di 15 centimetri. Squadre di terzisti si sono subito attivate per liberare il passaggio in alcuni tratti di strada secondari. I carabinieri sono intervenuti in tutta la vallata in soccorso di automobilisti in difficoltà e per alcuni incidenti. Sulla Marecchiese, a Maciano, una coppia di Pennabilli è rimasta ferita in una carambola causata da un'auto fuori controllo. Sono stati portati in ospedale per accertamenti. Cantonieri e i terzisti rimangono pronti ad intervenire in caso di criticità. A Sant'Arcangelo a causa del vento si è staccata dal tetto un'antenna satellitare a parabola, rimasta appesa ai fili e creando pericolo per pedoni e veicoli. La strada è stata delimitata e con il supporto dei vigili del fuoco l'antenna è stata smontata e restituita al proprietario. Sul lungomare di Rimini i carabinieri sono intervenuti per rimuovere rami spezzati a Torre Pedrera e Miramare. L'allerta meteo durerà fino alle 12 di domani, poi è atteso un miglioramento per venerdì. Ma da sabato e per tutto il fine settimana è invece previsto un nuovo peggioramento con precipitazioni che, seppur con minore intensità rispetto alle attuali, potrebbero assumere carattere nevoso sopra i 3-400 metri. E intanto dopo la ventina dei primi giorni di novembre, con la nuova ondata di maltempo tra ieri e oggi, sono tornate a spiaggiarsi sulle coste del litorale riminese alcune carcasse di tartarughe caretta caretta. 12 ieri tra Cesenatico, Bellaria, Rimini e Riccione e nelle Marche altre 6 e poi altre 6 anche nella giornata di oggi a recuperarle la Fondazione Cetacea di Riccione. In attesa dell'esito delle necroscopie, l'Istituto Oceanografico Daphne, oggi presentando il monitoraggio sull'Adriatico, ha parlato, in merito alle tartarughe, di un evento imputabile all'attività di pesca esercitata con retia strascico. Escluse invece come cause l'inquinamento a seguito di sversamenti di microinquinanti o un improvviso calo della temperatura dell'acqua. Questa mattina al comando provinciale dei Carabinieri di Rimini, il tenente Montalto ha illustrato la campagna contro il gioco d'azzardo avviata dall'arma, dal titolo Stai mettendo in gioco la tua vita. L'opuscolo di 18 pagine contiene diverse informazioni sulle problematiche del gioco d'azzardo, sui rischi, anche penali, che si corrono abusandone e su chi sono i soggetti più a rischio. C'è anche una parte dedicata alle ludopatie e ai servizi, qui rivolgersi in provincia in caso di bisogno. E infine il quadro sanzionatorio. Attualmente, in carico al CERT dell'Asl di Rimini, ci sono circa 200 persone, il 55% ha problemi di gioco d'azzardo, il 22% problemi legati alle lotterie. L'opuscolo sarà distribuito in scuole, bar e sale giochi. Nella sua visita pastorale alle associazioni e ai movimenti, il Vescovo Lambiesi ha incontrato nei giorni scorsi i neocatecumeni e il rinnovamento nello spirito. Ascoltiamo alcune testimonianze. La parola che lo spirito ci manda è qualcosa che ci rinnova poi nella vita e nelle nostre situazioni, ma la grazia del rinnovamento è proprio che certe cose si fanno con lo spirito di Dio e non con il nostro portare avanti con la nostra intelligenza le cose. È un'esperienza molto importante e questo cammino per l'effusione dello spirito può servire a tutti i cristiani per rinnovarsi e per rendere più bella la Chiesa, anche oggi che il mondo crede di poter fare a meno di Dio. Quello che è importante proprio in questo cammino è vivere nello spirito ognuno con la propria particolarità e quello che è importante nel nostro cammino è capire e far capire e comprendere quella che è la vocazione di ognuno di noi. Ha sentito un po' le nostre esperienze, quello che facciamo e ha visto che lo Spirito Santo dice che opera e cambia le persone, le trasforma e fa davvero delle creature nuove. Noi comunichiamo quello che abbiamo ricevuto in fondo e ha visto che siamo stati salvati da questo annuncio dell'amore di Dio per i peccatori, per chi è magari nelle situazioni difficili e questo comunichiamo, l'annuncio del Keringman, della Buona Notizia, che qualsiasi sia la situazione in cui tu ti trovi, Dio ha potere di tirarti fuori, di darti una vita nuova, un cammino nuovo, di ridarti, di ricostruirti una vita. Questo grazie non alla nostra bravura ma veramente al dono dello Spirito Santo di questa vita nuova. Siamo adesso alle notizie di tutto in 100 secondi. La protezione civile regionale ha chiesto al Comune di Rimini di attivarsi per integrare la ricognizione dei danni subiti nel nubifragio del 24 giugno. 528 le dichiarazioni arrivate, di cui 38 da attività produttive. Gli interessati devono compilare i moduli disponibili sul sito del Comune. Spiragli nell'avvertenza tra sindacati e maggiori dopo l'incontro di ieri al Ministero del Lavoro. L'azienda, dicono i sindacati, è entrata nel merito delle realtà colpite dalla crisi e si sono aperte prospettive per un corretto uso dei contratti di solidarietà e la ricollocazione di alcuni lavoratori. Nuovo incontro in 9 dicembre. Negozio di computer in fiamme ieri in Viale Valturio intorno alle 20. Il titolare, un 39 anni albanese, ha sentito odore di bruciato mentre chiudeva la sala cinesca e ha visto le fiamme di vampare da un piccino in riparazione. Per spegnerli ha riportato ustioni guaribili in 20 giorni, a causare in rogo un cortocircuito, danni per migliaia di euro. Il commissario di Sant'Arcangelo di Nuzzo ha rivisto l'organizzazione comunale riducendo i settori dirigenziali da 3 a 2 e l'organico di 5 unità. I prepensionamenti saranno effettuati sulla base dell'adesione volontaria dei dipendenti che hanno maturato i requisiti col criterio della maggiore anzianità contributiva, previsto un risparmio di 250 mila euro l'anno. Ieri i carabinieri hanno denunciato un 39enne riminese per ricettazione. Il 4 settembre dall'azienda Gross Clima nella zona industriale di Cattolica sparirono diversi climatizzatori. I ladri avevano scassinato la porta d'ingresso. Parte della rifurtiva, per un valore di 20 mila euro, è stata ritrovata proprio ieri nel capannone dell'uomo a Viserba. Il Consiglio comunale di Rimini si riunisce domani alle 18. Tra gli ordini del giorno, alcune modifiche in tema di contributi locali. La seduta sarà trasmessa in diretta su Icaro TV e dalle 20.15 su newsrimini.tv canale 614. Andiamo a Sant'Arcangelo dove riapre domenica con una nuova gestione il Super Cinema, chiuso dallo scorso maggio. Il commissario Rinuzzi è riuscito a far quadrare i conti per riaprire la struttura affidata oggi tramite bando ad un'associazione di casa. È il circolo cinematografico Dogville che si è aggiudicato il bando della Fondazione Cultura e Sant'Arcangelo, il protagonista del rilancio del Super Cinema. Domenica la festa inaugurale alle 18.30 brindisi, alle 19 concerto dei Sacri Cuori, autori della colonna sonora dell'apprezzato Zoran, il mio nipote scemo, proiettato alle 21 introdotto dallo stesso regista Matteo Leotto. La festa continua per tutto dicembre con 10 film al prezzo per gli associati di 10 euro, poi le proiezioni, sei serate a settimana e da gennaio in digitale, costeranno 6 euro. La filosofia della Dogville è che le piccole realtà funzionano se si mettono in rete e infatti ci sono già contatti con i tanti festival, associazioni e biblioteche Sant'Arcangiolesi e del territorio. Il Super Cinema ha due sale cinematografiche, una che verrà presto digitalizzata e che quindi sarà destinata alla normale programmazione, quasi sicuramente di prima visione, mentre una sala più piccola, che si chiama sala Wenders, invece quella noi pensiamo che diventi il luogo dove si possa fare informazioni, si possano fare incontri con gente del cinema, ma anche con altre forme artistiche che in un qualche modo col cinema sono direttamente o indirettamente collegate. In un momento in cui molti a Sant'Arcangelo mi consigliavano in nome del rigore di destinare altrove determinate risorse, quasi come se il cinema fosse un lusso che Sant'Arcangelo non poteva permettersi, io l'ho pensata subito diversamente. In questo sono stato confortato dal contatto che sono riuscito ad avere con le varie componenti della società Sant'Arcangiolesi e soprattutto del mondo culturale Sant'Arcangiolesi. Ci spostiamo adesso a Riccione per parlare del caos nella Riccione Calcio. Dopo la serrata di ieri pomeriggio, quando è stato interdetto ai giocatori l'accesso al campo per le inadempienze della società con la Tre Villaggi che gestisce il campo, oggi allo stadio Nicoletti sono intervenuti addirittura i carabinieri. A chiamarli è stato il tecnico Arturo Di Napoli per tutelare i suoi ragazzi e permettere agli stessi di recuperare l'attrezzatura e gli effetti personali negli spogliatori dell'impianto riccionese. Per evitare di andare incontro a sanzioni o a eventuali squalifiche, ha spiegato poi il tecnico, abbiamo fatto attestare che io e la mia squadra siamo regolarmente sul posto di lavoro ma per vari motivi, sia ieri che oggi, non ci è stato permesso di allenarci. Non voglio entrare nel merito della questione, conclude il tecnico riccionese, ma se vi sono eventuali problematiche e dovere della società risolverle. Altri problemi anche a Rimini dove prosegue la polemica sui campi di calcio tra la società che le gestisce i delfini e quelle utilizzatrici, in particolare Viserba, Riva Azzurra e Rimini United che sabato scorso tra l'altro hanno annunciato per il 5 dicembre una manifestazione di protesta in centro. I delfini in una nota rispondono alle accuse di speculazione avanzate dalle società. Il corrispettivo annuo per la gestione di tutti i campi spiegano è di 210 mila euro netti e non 350 mila. Un risparmio di circa 270 mila euro, dicono, rispetto alle cifre che si sarebbero spese se i campi fossero ancora stati gestiti dalle società che ora ne sono semplici utilizzatrici. I delfini elencano poi campo per campo le mancanze delle precedenti gestioni che hanno portato a dover già investire 130 mila euro per la messa a norma. E inoltre, dicono ancora i delfini, sono molte le società inadempienti e quindi con debiti nei confronti dell'attuale gestore. E questa era l'ultima notizia per quanto riguarda l'edizione di oggi. Io vi lascio al meteo, buon proseguimento d'ascolto.